Allora qua siamo davanti una specie di sala giochi, la vedete pacinco e slot, dove si entra e si gioca con un gioco stranissimo io sono entrato, l'ho guardato, non l'ho capito come funziona, mi hanno detto che non si vince soldi ovvero sia uno gioca delle sfere di metallo che vengono messe dentro una macchinetta queste sfere cadono, fanno dei giri strani, a secondo cosa colpiscono, una specie di flipper dove però tu guardi soltanto non muovi le stecche per intenderci, a secondo di cosa colpisce ti escono altre stecche il problema è che praticamente qua dentro non posso filmare, quindi come vedete qua ci sono tutti i divieti tra cui c'è anche il divieto di filmare, per cui se entro mi fanno il culo anche perché mi dicono che in genere queste sale giochi sono gestite dalla malavita però la cosa che mi ha truppito particolarmente è il rumore che c'è dentro ora provo ad aprire di nascosto, vediamo, sentite il rumore e io sono fuori, dentro c'è un rumore assordante com'è che non gli cadono le orecchie stando là dentro? Non lo so non so se lo vedete, ma proprio scappo perché sono il becco e vi fanno il culo grazie